Per vincere la guerra del software bisogna conquistare l'hardware. Lo sa bene Google, la quale sarebbe in procinto di lanciare una console videoludica e uno smartwatch. Il termine vi suona familiare? Beh, dovrebbe, perché in quella che ormai è anche una guerra di indiscrezioni, il motore di ricerca andrebbe a lanciare un concorrente al tanto vociferato orologio intelligente di Apple. I due dispositivi monteranno ovviamente Android, il sistema operativo che, in quanto a quote di mercato, già domina smartphone e tablet. Rimane da vedere se dominerà il cuore degli utenti anche come piattaforma per i videogiochi.